Già oltre i 5.000 studenti siciliani sono andati a lezione di numero unico di emergenza 112, cioè quello che serve a richiedere diversi tipi di soccorso, dal quello sanitario del 118 ma anche gli interventi di carabinieri, polizia e vigili del fuoco. 5.000 studenti rappresentano il bilancio relativo all'anno scolastico in corso raggiunto dall'iniziativa promossa dalla SEUS, una campagna informativa rivolta alle scuole realizzata in sinergia con l'assessorato regionale alla salute e con le prefetture della Sicilia. L'ultimo appuntamento è stato a Mazzara del Vallo con circa 700 alunni delle elementari che hanno gremito il cineteatro Rivoli. Hanno con attenzione eseguito la dimostrazione curata da un operatore del NUE 112 Sicilia e svoltasi con un supporto tecnico informatico, un modulo teorico di circa un paio d'ore, l'ausilio di video e slide, la simulazione di una chiamata al NUE 112 e la spiegazione del funzionamento dell'app Where Are You. L'apprendimento è strutturato in maniera altamente esperenziale e dinamica calibrandolo a seconda dell'età degli alunni. Il progetto anche a Mazzara del Vallo ha ricevuto il supporto dell'amministrazione comunale. Oggi abbiamo raggiunto un'altra tappa, questa di Mazzara del Vallo, dove sono presenti qui oltre 700 ragazzi, ma oggi facciamo anche un bilancio complessivo perché questo progetto ha raggiunto oltre 5.000 ragazzi. Siamo veramente felici di quella che è stata l'adesione delle scuole a questo progetto. Già ci sono scuole che si sono diciamo prenotate per l'anno prossimo, per quello che sarà questo progetto che continuerà l'anno prossimo, che si ripeterà l'anno prossimo. Che dire, siamo veramente felici, orgogliosi del lavoro fatto da tutti i miei ragazzi, i miei operatori, encomiabili. L'obiettivo è sicuramente un obiettivo centrato, quello di far conoscere questo numero 112 a tutte le scuole.